La complessità dello sport in ambito mediatico, giuridico e formativo è la titolo dell'appuntamento al Palace Sport a Fonte Basso. Di mattina c'è un incontro con le scuole, ma soprattutto dei relatori particolarmente importanti. Come è stato l'impatto delle scuole con questo tipo di evento? Direi che è stato ottimo, ottimo sotto tutti i punti di vista, sia da parte di ragazzi che hanno fatto delle domande bellissime, importantissime. E devo anche ringraziare tutto l'istituto per come hanno preparato questa mattinata. E naturalmente tre campioni nelle loro attività e nelle loro professionalità, ma soprattutto anche tre campioni di umanità, secondo me hanno lanciato dei messaggi molto molto importanti per i nostri ragazzi. Che impressioni, che sensazioni ha avuto incontrando i ragazzi? Spesso noi dipingiamo i bambini, i ragazzi, un figlio adolescente come fossero veramente distratti da tutto. In realtà non è proprio così, stamattina davanti a questi ragazzi non ho avuto la conferma. Delle domande veramente appropriate, una curiosità alle quali io sinceramente con i ragazzi non sono abituato. Altro super ospite di questa iniziativa di 90 è Filippo Galli, chiamato a parlare della complessità del preparare un giovane atleta. Allora vorrei chiederle qual è la condizione del calcio giovanile in Italia. È un dubbio che oggi si faccia sempre più fatica a fare in modo che un giovane arrivi nel calcio professionistico, in modo particolare sul palcoscenico della Serie A. È chiaro che è un problema, come sempre, che va affrontato in modo sistemico, cioè non possiamo pensare di risolverlo in maniera parcellizzata. E quindi tutte le componenti che fanno parte del mondo del calcio, che possono in qualche modo influire su questo percorso formativo dei nostri giovani calciatori e adesso anche delle giovani calciatrici, si devono mettere insieme e speriamo che prima o poi si arrivi davvero a collaborare tutti insieme per migliorare il percorso formativo dei nostri ragazzi. Alberto Ceruti, editorialista della Gazzetta dello Sport, come è cambiato il racconto sportivo dagli anni passati a quello di oggi? Come è cambiato il mondo? È cambiato il modo di raccontare gli avvenimenti sportivi per colpa o per merito della televisione, che fa vedere tutto in tempo reale e quindi chi scrive, soprattutto sui giornali che vengono pubblicati il giorno dopo, deve trovare una chiave diversa, perché non puoi raccontare alla gente quello che la gente ha già visto. Quindi conta di più il commento, l'interpretazione personale, partendo ovviamente dai fatti che si sono verificati sui campi. L'incontro di stamattina è di una soddisfazione incredibile, doverosi complimenti al corpo docenti e ai ragazzi per la qualità delle domande e la profondità dei loro interventi. Si capiva chiaramente che c'era un lavoro importante dietro, un grazie infinito ai relatori che sono stati di un'empatia incredibile e riuscendo a mixare l'aspetto più serio e l'aspetto anche più divertente con i ragazzi.